Facciamo un punto informativo sulle attività del comitato operativo che è riunito già da diversi giorni. Oggi abbiamo proseguito nelle attività di organizzazione dei controlli dei presidi, scusate qui c'è una cosa che è caduta, attività dei presidi, dei controlli negli aeroporti e nei porti. Prima di parlare di questo argomento volevo dire che abbiamo predisposto una ordinanza di protezione civile che è all'intesa delle regioni per scongiurare la perdita dell'anno scolastico per i ragazzi, 114 ragazzi, che erano occupati nel scambio culturale con la Cina e che sono rientrati o stanno rientrando, tra i quali faceva parte anche il ragazzo che è rimasto in Cina perché aveva la febbre qualche giorno fa. Ho firmato il provvedimento di istituzione del Comitato Tecnico Scientifico, il Comitato Tecnico Scientifico che è coordinato dal Dottor Agostino Miozzo, il coordinatore del nostro ufficio promozione ed integrazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, è composto dal segretario generale del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco, dal direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute il dottor Claudio Damario, dal direttore dell'ufficio di coordinamento degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della Salute Mario Mauro Dionisio, dal direttore scientifico dell'istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani e dal professor Silvio Brusaferro che è il presidente dell'istituto nazionale dell'istituto superiore di sanità, nonché il comitato è integrato dal dottor Alberto Zoli componente designato dal presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome. Questo è il comitato di supporto per le attività tecnico-scientifiche a disposizione del commissario ma a disposizione del Ministero della Salute. Per quanto riguarda il controllo negli aeroporti prego di mettere una slide che abbiamo la diapositiva realizzata, eccola quella che vedete, abbiamo avviato il controllo in tutti gli aeroporti con gli strumenti a disposizione, come sapete su Fiumicino già da ieri sono operativi gli strumenti, i termoscanner, alle 16 di oggi erano oltre 24.000 le persone che erano state verificate con questa strumentazione. Quello che voglio dire è che c'è stato un grande sforzo da parte degli uffici della sanità di frontiera, da parte delle nostre organizzazioni di volontariato. Come vedete in brevissimo tempo abbiamo attivato le nostre organizzazioni di volontariato, quelle nazionali e anche quelle locali e abbiamo creato un bacino di 110 medici e 330 tecnici sanitari per ogni turno. Questo numero che vedete aeroporto per aeroporto è il numero dei volontari che sono impiegati per turno, lo dobbiamo raddoppiare per due e quindi da oggi ci sono 628 persone che sono personale sanitario che è affiancato al personale degli USMAF che sono gli uffici di sanità marittima e di frontiera. Questo risultato che era il risultato richiesto dal Presidente del Consiglio Ministro e dal Ministro della Salute sin dalla prima riunione del nostro comitato operativo venerdì scorso è stato possibile grazie alla collaborazione delle direzioni regionali della sanità delle diverse regioni, dei colleghi delle protezioni civili regionali e dei volontari della Croce Rossa Italiana, del CISOM, Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, le Misiricordie, Confederazione Nazionale delle Misiricordie d'Italia, CIVES, coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria, ANPAS, l'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, ANA, l'Associazione Nazionale Alpini. Voglio ringraziare anche ENAV ed ENAC che ci hanno supportato nelle nostre attività e quindi dire che questo è il primo risultato. Ovviamente noi abbiamo già attivato il Ministero della Salute, la Direzione Generale di Marittima Aerea di Frontiera del Ministero della Salute ha già dettato disposizione da domenica sera per intensificare i controlli nei porti. Per quanto riguarda i porti poi ci saranno ulteriori disposizioni dettate sempre dal Ministero della Salute per quanto attiene anche alle navi da crociera e altre esigenze che saranno poi individuate. Io mi fermerei qui e darei spazio, se non ci sono interventi, alle vostre domande. I 114 ragazzi stanno rientrando, rientreranno domani dopo domani. Colgo l'occasione per ringraziare l'unità di crisi della Farnesina perché anche loro fanno parte del nostro comitato operativo, sono soggetti a tutori proprio per il rientro dei nostri connazionali e per l'assistenza di dei cittadini stranieri che devono rientrare in Cina. Rientreranno attraverso voli indiretti, così come fino a oggi è accaduto per chi è rientrato da quei territori. Scusi, cioè voli indiretti può spiegarci meglio? Molto semplice. Si prende un volo da Pechino, si arriva a Doha, si arriva a Dubai, si arriva a Francoforte e da lì si prende un altro volo e si arriva in Italia. Buonasera, Tg2. Su Malpensa che informazioni ci può dare invece? Perché alle 18 iniziano questi controlli con i termometri a pistola, giusto? Su Malpensa i controlli io so che dovevano iniziare prima, non ho un dato preciso ma se lei mi dice alle 18 io le confermo alle 18 partiranno. Come sapete c'è stata anche un'attività di organizzazione da parte degli uffici di frontiera della sanità e anche una questione che riguardava purtroppo l'organizzazione del sistema inordinario con i medici del Ministero che non erano poi sufficienti rispetto a tutti gli aeroporti da presidiare. Il Ministero si è prontamente attivato e sta provvedendo ad affiancare con i propri medici i nostri volontari. Altre domande? Il ragazzo 17enne rientrerà non appena si sarà ristabilito e su questo sta lavorando l'unità di crisi della Farnesina. Io non vi voglio dare dettagli ma ci sono concrete ipotesi di rientro non solo di questo ragazzo ma anche di altri che volessero rientrare. Però i dettagli ve li daremo al momento opportuno. Mi scusi ha parlato degli aeroporti, per i porti invece che pratiche state seguendo per i croceristi? Allora per i porti il metodo sarà lo stesso, è stata estesa la pratica della libera pratica sanitaria, scusate è una procedura per cui viene compilata una dichiarazione, viene fatta una dichiarazione al comandante prima della discesa dei passeggeri dalle navi, prima dell'arrivo in porto e sulla base poi di quelle che sono le indicazioni che arrivano dal comandante della nave. Le strutture della sanità marittima sono pronte ad intervenire con i nostri volontari e con il personale medico del ministero. Delle persone che sono state fino ad ora controllate negli aeroporti quanti avevano la febbre? Quanti ne avete portati da parte? A noi non ci sono stati segnalati casi sospetti perché il meccanismo funziona così, quando si arriva e se qualcuno ha la febbre poi si fa uno screening e gli si domanda se è stato in Cina da meno di 14 giorni. Ovviamente se il passeggero dice di no, il passeggero è libero di muoversi perché ha avuto la febbre e non è comunque ricollegabile all'evento. Tra l'altro, come dice il collega, siamo in periodo influenzale. Sì, magari se qualcuno vuole intervenire, se vi prenotate, alzate la mano, facciamo poi l'individuazione. Prego, prego. Per capire perché è un passaggio importante per noi, sostanzialmente misurate la febbre e poi gli chiedete se è stato negli ultimi 14 giorni in Cina. Diciamo, è questo il tipo di screening che è operato? È da lì che inizia il percorso, cioè il personale sanitario effettua una visita e poi il discrimine è l'essere stato in Cina. Un lasso di tempo. Esatto. Grazie. Prego. Come no? Quante sono le persone complessivamente che organizzate come volontari, come strutture di accoglienza, è il complessivo? Allora, io ho dato i numeri. Io ho dato i numeri. Per il momento, come vi ho detto, noi abbiamo un bacino di 880 volontari e volontarie che sono medici e personale sanitario in generale. è una dimostrazione della capacità del nostro volontariato di protezione civile che non finiremo mai di ringraziare. è quello che ora serve. Dovessero servire ulteriori risorse da parte del sistema di protezione civile e noi saremo pronti a metterle in campo. torno a ripetere, noi contiamo più di 100 mila, 120 mila, 130 mila volontari iscritti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e voi lo sapete perché in occasione di terremoti vedete quanti sono i volontari che noi riusciamo ad attivare. Quindi ancora grazie a loro. Scusi, Giorgia Sador a Dianne Cronos. Se ho capito bene, quindi i controlli negli aeroporti, cioè entro stasera partono in tutti gli aeroporti? Sono già partiti? Sono già partiti, malpensa, non ho capito, adesso mi sincererò personalmente del motivo perché partiranno alle 18 ma l'indicazione che noi avevamo impartito era partire tutti quanti entro mezzogiorno. Entro mezzogiorno dovranno essere partiti tutti? Esatto, questa è l'indicazione che abbiamo dato. C'è anche qualche aeroporto come quello di Perugia che partirà domani perché il primo volo internazionale che arriva, arriva domani. Sono già attrezzati da oggi? Sono già organizzati. Scusi, un'altra precisazione. Innanzitutto questi controlli stanno avendo delle ripercussioni, c'è dei ritardi per i passeggeri oppure sta scorrendo tutto? Al momento non ci sono segnalate difficoltà, intralci, lamentele, anzi riscontriamo un grande consenso da parte dei passeggeri perché capiscono che è per la sicurezza collettiva. Quindi una grande disponibilità come avete potuto vedere anche voi dall'immagine o se andate a fare un giro al fiumicino vi ricorderete, potrete verificare che in massimo due secondi il controllo si esaurisce. Mi dice il nostro dottore Nicolai di Enac che a Malpensa sono iniziate alle 16 controlli e non alle 18. Quindi anche questo è stata fatta. Un'altra precisazione, quindi i sistemi che state utilizzando sui vari aeroporti sono i termoscanner e questi termometri a pistola, cioè questi due sistemi? Esatto, allora anche questo lo abbiamo fatto, Enac ha ricevuto stasera dal Ministero della Salute le specifiche tecniche da passare alle società di gestione aeroportuale che acquisiranno i termoscanner. Molte si sono già attivate col passaparola perché come avete visto l'aeroporto di Roma ha in dotazione, come Malpensa, hanno in dotazione le termocamere quindi le avevano già acquisite. Per cui fin quando non ci sarà l'installazione delle termocamere in tutti gli aeroporti noi continueremo a supportare i controlli con i nostri volontari. Sì, anche dove ci sono le telecamere, qualora ovviamente il personale sanitario in servizio non dovesse essere sufficiente. Mi spiego meglio, a Fiumicino ci sono 239 arrivi internazionali al giorno quindi è ovvio che lì è stato strutturato un rapporto anche con l'organizzazione di volontariato che gestisce le attività, che sapete la Croce Rossa italiana, quindi ci sarà un controllo con il supporto ancora dei nostri volontari. Laddove invece i termoscanner saranno sufficienti ad effettuare i controlli, a garantire controlli con il personale tecnico e medico del Ministero della Salute ovviamente noi libereremo i nostri volontari. Ancima Sì